Pallavolo, divorzio, turbolento tra Filippo Lanza e Perugia. E' dunque finalmente terminata la telenovela che per mesi ha fatto discutere addetti ai lavori anche tifosi. Lui però ha già voltato pagina. Maurizio Colantoni l'ha incontrato. Non rientrava più nel progetto, nonostante l'accordo ancora di un anno con Perugia. Filippo Lanza, tra i pezzi forti della nazionale Argento a Rio, ha combattuto per tornare al più presso a giocare. Mesi lunghi, lunghissimi, divisi tra lo stop forzato del lockdown e quello imposto dalla sua Romai, ex squadra. Torna però a sorridere e soprattutto a giocare. Mancano solo i dettagli e la sua prossima squadra dovrebbe essere Monza. Ho tanta voglia di rigiocare, di ricominciare il campionato, di far sì che le partite parlino per me. Questa stagione sarà importantissima sia in vista dell'Olimpiade, sia in vista proprio di una rivincita personale verso quello che sarà la mia prestazione e la prestazione di squadra. A questo punto della sua carriera, Filippo Lanza, come si sente dopo tutto quello che ha passato? Direi arrabbiato, direi carico, direi voglioso di raggiungere grossi obiettivi. I giochi saranno molto importanti, ma il significato per te, giocare ancora all'Olimpiade, qual è? Sicuramente le emozioni che ho provato nella scorsa edizione sono state talmente forti che riviverle sarebbe un secondo sogno che si avvera.